Il nuovo anno è iniziato e per la scuola basketarezzo è già tempo di ambizioni e progetti. Il lavoro delle ultime stagioni ha permesso di ricostituire una prima squadra competitiva e di consolidare il settore giovanile. Dunque nel 2017 la società retina è pronta a vivere il definitivo salto di qualità per affermarsi tra le realtà maggiormente in ascesa della pallacanestro del centro Italia. In questo senso la gestione del Pala Sport Estra Mario D'Agata ha rappresentato un passaggio di fondamentale importanza nel percorso sportivo della SBA permettendo ai 300 atleti delle sue 19 squadre di godere del miglior ambiente dove allenarsi, giocare e crescere. La società da qualche anno ha deciso di investire la maggior parte delle proprie risorse sul vivaio che coordinato dal responsabile tecnico Umberto Vezzosi sta vedendo emergere tanti promettenti atleti e sta registrando importanti risultati nei vari campionati disputati. Il 2017 si prospetta un anno importante anche per la prima squadra che attualmente occupa il secondo posto nel campionato di Serie C Silver e che dopo aver riacceso l'entusiasmo di tanti appassionati può legittimamente ambire i playoff. La Mennesba può fare affidamento su un gruppo compatto coeso e con giocatori di valore come Gianandrea Fratini che domenica prossima disputerà la prima gara del nuovo anno facendo visita all'Ottigalli di Terranova Bracciolini allenato dall'ex Stefano Baggiani. La SBA è un'isola d'eccellenza, commenta il presidente Castelli, una società solida, un florido settore giovanile e una prima squadra nuovamente ambiziosa. Con il sostegno della città di nuovi sponsor nel 2017 possiamo vivere il definitivo salto di qualità per entrare nella cerchia delle grandi realtà del basket italiano.